Voglio essere chiara e concisa e soprattutto non dilungarmi troppo. Vorrei che tutte le persone che stanno per assistere a questo scempio mi ascoltino per un minuto, o anche due. Sono qui per fare un appello che non dovrebbe neanche esistere. Perché noi donne dobbiamo essere diverse da voi uomini? Cosa ci differenzia e ci distingue? La risposta è semplice, è solo una, nulla. E allora perché noi veniamo viste solo come dei burattini che non hanno scelta, neanche per il loro marito la maggior parte delle volte, senza libertà d'espressione. E il nostro unico scopo nella vita è stare a fianco di un uomo e soddisfare ogni sua richiesta. Sin da bambine veniamo viste solo come figlie di nostro padre. Nel pieno della nostra giovinezza invece siamo solo carne per voi su cui sfoggiare i vostri piaceri e con l'unico intento di fare figli. Perché tutto questo? Non riesco proprio a concepire quali capacità abbiamo in meno di voi. Poco tempo fa sono stati scritti i diritti dell'uomo e del cittadino, ma noi non siamo state proprio incluse in questa categoria. Questo dovrebbe farvi riflettere a voi tutti. Dove sono finiti quei nostri diritti naturali che la forza del pregiudizio ci ha sottratto? Ovviamente senza chiedere e con la solita presunzione che ci viene disposto ogni volta. E' anche disumano che io debba ribellarmi per avere un po' di ricognizione come donna, femmina, essere umano. Noi siamo libri di fare le cose più semplici come anche il divorzio. Dobbiamo sempre essere legati a qualcuno, verremo viste, non che cambi molto anche dopo, come nullità. Ma alla fine voi uomini vi comportate così solo perché siete un popolo di ignoranti, che non riconosce ciò che la natura ci ha donato. Il disprezzo che voi trovate nei nostri confronti è solo il frutto delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi. Ma sarà tardi quando potrete accorgervene. E vi credete tanto liberi, ma la libertà è un concetto che va anche dato. Ma a me non sembra proprio che voi esercitate tutto ciò. E' difficile rinunciare alla tirannia che voi esercitate su noi donne. Voi forse non vi rendete conto che tipo di impedimento ci date ogni giorno. La privazione effettiva delle cose più semplici che per voi sono quasi quotidiane e che invece per noi donne vanno sudate. Con questo discorso io non voglio elogiare il sesso femminile. Io voglio che ci sia uguaglianza e che le donne ovviamente non dovranno essere escluse in futuro alle stesse accuse che possono avere gli uomini. L'essere uguali è proprio questo. Donne e uomini dovranno obbedire alle stesse cose imposte dalla legge. Io confido nel vostro risveglio mentale perché alla fine, ripeto, intorno a voi c'è un muro di ignoranza. L'ignorante alla fine del giorno non è altro che colui che vuole ignorare una situazione che sa che è sbagliata. Se come io oggi, come donna, ho il diritto di salire sul patibolo, allora spero che le future donne potranno avere anche il diritto di salire sulla tribuna.